Quante volte al giorno deve mangiare il tuo cane? Parliamone. Dunque, la frequenza dei pasti è molto soggettiva, però mediamente io sconsiglio assolutamente un'unica volta al giorno perché i volumi sono troppo alti e esporre il cane a rischio di dilatazione e quindi poi torsione è molto elevato. Vai sul mio profilo, clicca segui, vai a vedere anche che sto facendo un corso di primo soccorso dove proprio tratterò di questo, come riconoscere la dilatazione e la torsione nel cane, come intervenire per potergli salvare la vita in attesa di arrivare in clinica. Anche troppi pasti non vanno bene e soprattutto non va assolutamente bene lasciare a disposizione il cibo in modo che il cane discrimini lui quando mangiare perché non è un gatto e questa cosa di continuare a digerire può essere veramente un problema e creare anche dell'acidità che non serve. Mentre invece consiglio moltissimo due pasti o tre pasti al giorno. La mia memole è prima e adesso anche maetri, fanno colazione e cena abbondanti e una merendina al mezzogiorno ovviamente sempre considerando quando poi fanno movimento nella giornata. E tu quante volte dai da mangiare al tuo cane nell'arco della giornata? Scrivimelo qui sotto nei commenti.